Bianca Nappi, protagonista del film, raccontaci la tua esperienza. Allora, la mia famiglia a soquadro, per il quale stasera riceverò un riconoscimento e sono molto contenta di questo, è una commedia e tutta la storia è incentrata intorno a questo bambino che fa di tutto per far separare i genitori, per sentirsi uguali agli altri compagni di classe. Io sono una mamma che ha un percorso di grande cambiamento nel film, all'inizio è molto dimessa e poi piano piano avrà un cambiamento totale e ovviamente non vi svelo di più, il film uscirà a marzo, è un film molto divertente, molto particolare, però allo stesso tempo profondo perché intercetta un fenomeno come quello delle separazioni che è veramente sempre più frequente, diciamo così. Emozionata? Sì, perché è sempre un'occasione di incontrare il pubblico, le persone, quindi c'è sempre un minimo di emozione e anche di curiosità. Sai che il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è giunto ai suoi primi 70 anni, vogliamo fargli un augurio per questo avvenimento così importante? Sì, allora faccio un grande augurio al Festival, ma anche alla città di Salerno, ai salernitani a questo popolo bellissimo, a questa città particolarissima.